Venga, venga signor Umbi, posso andare a fare io, Maranti? Sono, guardi, sono, guardi superati. Bravo, Umbi, ti senti? Si vede che ci stiamo divertendo, d'altro ora ho 60 anni, non è che lo faccio tutti i giorni. Non mettiamo limiti alla provvidenza. No. No, benissimo. Ah sì, grazie. Vai a suonare? Vai via, vai via. Buonasera, Amos. Bentornati. Umbi, su un piacere. Grazie per essere. Grazie per aver guardato il video. 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 C'erano da te, l'otto di l'ancio, e l'altro era tutto per me, ma poi vengono da te, e l'astrappa divan, cos' e poi si es un chasso, lo capite di me, a difesa. A difesa. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti